Asiago riaperto al pubblico il sacrario militare dell'Eiten, rispettando tutte le misure di sicurezza rettate dall'emergenza sanitaria. Al proposito resteranno chiusi il cinema, le sale storiche, la terrazza panoramica e i servizi igienici. Sarà predisposto un percorso obbligato e delimitato da transenne, bisognerà rispettare le distanze, indossare la mascherina e disinfettare le mani all'ingresso, negato l'accesso a chi avrà temperatura corporea superiore ai 37 gradi e mezzo. Tranne lunedì il sacrario di Asiago si potrà visitare dalle 9 a mezzogiorno e dalle 14 alle 17.